Politeama di Como smantellate le impalcature che da anni coprivano la facciata dell'ex cineteatro saranno sostituite con reti da cantiere mentre stiamo verificando le procedure per iniziare i primi interventi di manutenzione ha spiegato il sindaco della città Alessandro Rapinese. Nei mesi scorsi era stato sempre il primo cittadino a far sapere che gli attuali ponteggi non consentono di effettuare interventi perché si tratta di impalcature al solo scopo pubblicitario. Questo dunque è il motivo che ha portato a rimuovere le strutture provvisorie sulla facciata del Politeama. L'operazione impalcature era stata lanciata poco prima del Natale 2020 con l'obiettivo di affiggere pubblicità e ricavare fondi per interventi di messa in sicurezza del Politeama. E intanto la rimozione delle impalcature ha mostrato i segni di degrado presenti sulla facciata dell'immobile di piazza Cacciatori delle Alpi, ruggine, intonaco danneggiato e ancora parti di muro mancanti. Segni inesorabili del tempo e delle mancate manutenzioni. Lavoriamo all'ipotesi di aumentare il numero di concessioni pubblicitarie per poter finanziare parte degli interventi prioritari per il Politeama. Aveva ribadita ancora nei giorni scorsi il sindaco. A breve inoltre l'amministrazione comunale sulla base della relazione degli esperti l'equipe di professionisti formata nel 2021 con lo scopo di dare un futuro alla storica struttura potrebbe fornire dettagli del progetto di recupero del Politeama, oramai chiuso da 18 anni.